salve a tutti e ben ritrovati dal vostro joe siamo ancora su final fantasy 7 ever crisis perché come potete vedere ci siamo spostati adesso sulla sezione dei pool questo è il banner che è possibile sfruttare per 3000 gemme rosse quindi gemme comprate per ottenere un'arma 5 stelle garantita che riesca a fare danno acqua o danno terra con in più il bonus di 50 grindstone chunk e 5 mithril ore quindi questo diciamo è un banner esclusivo per chi magari vuole avere diciamo un minimo di chance nel completare questo evento ma il vero banner featured sì poi questo ne parliamo ma il vero banner featured di cui dobbiamo assolutamente parlare è il banner di matt e di yuffie quindi un banner che assolutamente mi ha spiazzato mi ha veramente spiazzato non tanto per yuffie che comunque yuffie come diciamo dps elementale fisica ormai sta prendendo un buon un buon ritmo perché ha comunque l'arcanum vento l'arcanum terra e potrei paradossalmente decidere di splittare gli elementi dove cloud praticamente mi diventa dps fisico fuoco ghiaccio tuono e anche un po acqua perché comunque bene o male acqua riesco a fare qualcosa con cloud mentre invece yuffie potrebbe diventare appunto il dps fisico elementale numero 2 con vento terra che sono elementi che mi mancano con cloud quindi potrebbe essere comunque una buona idea ma secondo me qui il banner se lo tira matt matt ottiene praticamente la syringe rapier che consente di incrementare difesa fisica e magica a livello mid e anzi non ho controllato se effettivamente può arrivare ad haig portandola diciamo a livello più alto ma penso di no penso che sia una classica arma che rimanca mid anche se la sua partenza è già mid quindi adesso lo andremo a vedere meglio dove praticamente aumenta difesa magica e fisica in base ai suoi hp ovviamente sono al di sopra del 50% e cura anche il 7% in base ovviamente alla sua potency healing quindi ragazzi che dire innanzitutto andiamo a vedere nel dettaglio le armi questa è l'arma di yuffie ovvero la hawkai che ci consente di mettiamola nelle statistiche massime che ci consente di ottenere appunto boost di attacco fisico in questo caso più 46 e boost ovviamente di tipologia terra perché giustamente parliamo cioè di elemento terra 850% di danno fisico elementale terra al singol enemy che però se i nostri hp sono del 70% o più vengono moltiplicati dell'1.2 in più per quanto riguarda invece le support materia abbiamo attacco magico fisico attacco fisico e sigil boost circolare per quanto riguarda il bonus quindi abbiamo anche un bonus sigilli che sicuramente schifo non fa mentre invece per quanto riguarda l'arma di matt esatto anche a livello massimo comunque rimaniamo mid quindi immaginavo che non saremmo arrivati ad haig perché sennò veramente sarebbe stato instapull senza pensarci neanche un momento letteralmente senza pensarci neanche un momento dove praticamente abbiamo la difesa magica che viene incrementata con potency smid quindi due tacche a tutti quanti gli alleati poi la durata ovviamente 14 secondi eccetera eccetera inoltre anche una magia di healing viene prodotta con il 7% della potenza healing sempre per tutti quanti e poi quando matt ha il 50% o più di hp anche la difesa fisica viene incrementata sempre con potency smid quindi sempre due stack di potency smid con ovviamente range tutti gli alleati stessa durata della difesa magica e stessa durata dell'estensione però max potency smid quindi ok questo non lo stavo leggendo quindi lui è mid mid fin da subito però può andare ad haig nel momento in cui prende la stella rosa e allora raga e qui qui ci sarebbe da parlarne qui ci sarebbe veramente da parlarne un'arma che raggiunge con la prima stella rosa haig in tutti e due in tutti e due gli slot è pazzesco inoltre come refined abilities possiede boost hp e l'estensione del buff debuff quindi cosa vuol dire vuol dire che appunto estende la capacità di questi 14 secondi vengono estesi vengono estesi e ragazzi qui la situazione è particolare molto particolare sembra stupido focalizzarsi magari su un'arma difensiva di questa portata ma matt qui è diventato praticamente il support definitivo cioè qui ormai la battaglia tra barrett e matt almeno nel mio account ovviamente per quanto riguarda barrett e matt nel mio account penso che ormai sia stata cioè sia stata completamente vinta da matt dal punto di vista di support barrett è un po' più offensivo ed è un po' più diciamo specifico in alcune situazioni ma qui matt veramente diventa 360 gradi fisso nel party diventa letteralmente fisso nel party perché c'è una combo con la syringe rapier con poi ovviamente anche una prime number per le cure possibilmente o sì diciamo che la prime number è quella che si prostra meglio ma potremmo anche mettere comunque una branded spine come arma primaria o anche come arma secondaria perché no in modo tale da sfruttare comunque il buff extension e poi curarci a parte tra l'altro alla cura all pure nel alla cura all nello slot nell'ultimo slot quindi è un 3 in 1 praticamente quest'arma è letteralmente un 3 in 1 perché abbiamo attacco magico ovviamente incrementato cura all per chi magari non voglia utilizzare la prime number può comunque utilizzare la cura all è vero che abbiamo un meno 40% però se incrementiamo abbastanza l'effetto healing sicuramente riusciremo a gestire la situazione perché se riusciamo a incrementare comunque la difesa fisica e magica e subire pochi danni potremmo anche curare meno rispetto a una prime number e riuscire nonostante tutto a tenere diciamo fissi gli hp dei nostri giocatori anche perché lui boosta l'attacco fisico quindi si potrebbe veramente fare una combo con syringe rapier branded spine e praticamente avere difese alte buff per i nostri alleati veramente quest'arma incredibile l'arma di matt è veramente incredibile per quanto riguarda la skin invece abbiamo boost hp e boost healing che per matt almeno per il mio matt sono incredibilmente buone e qui anche il gioco ci sta facendo capire qual è almeno almeno per come lo leggo io il gioco ci sta facendo capire qual è il ruolo di matt ovvero un full support sia dal punto di vista curativo sia dal punto di vista anche difensivo è praticamente il concorrente diretto se non il concorrente diretto di eris chi non vuole usare eris o chi non può usare eris in base alle armi che possiede a praticamente matt che fa tutto fa letteralmente tutto difesa cura buff debuff anche in alcune situazioni quindi cioè stiamo parlando veramente di un secondo per me matt rimane il personaggio migliore del gioco senza dubbio è quello più poliedrico è quello più eclettico quello che riesce effettivamente a fare un po' tutto e riesce a farlo però bene a differenza di altri personaggi che fanno tante cose però magari non fatte benissimo matt invece ancora una volta si conferma essere un top top personaggio quindi io effettivamente l'arma di matt probabilmente l'andrò a prendere subito non l'aspetterò ma l'andrò a prendere subito perché anche l'arma di matt normale con diciamo portata al 120 o comunque con con le stelle rosse mi consente comunque di avere un ottimo mid range a tutte cose un 5% di healing potencies quindi sinceramente parlando sinceramente parlando sì sinceramente parlando sinceramente parlando sì anche anche portarla una stella rosa sarebbe ottimo però mi accontenterei comunque delle stelle rosse per il momento però sì quest'arma di matt è probabile che io vada a prenderla quindi vado a fare almeno i primi 6 stamp e forse mi vado cioè in realtà dovrei andermi a prendere anche il costume perché comunque anche il costume secondo me vale la pena però vediamo deciderò tanto qua cambiamo con matt perché se io vado a pullare se io vado a pullare vado vado su matt e non andrò sicuramente su yuffi perché va bene yuffi appunto essere danno terra mi permette di facilità però matt qui in questo caso in questo caso è veramente incredibile in questo caso per me matt qui è veramente incredibile cosa dire in wishlist ovviamente io metterò l'arma di barrett quella nuova sicuramente è una di quelle armi wishlist che mi piacerebbe avere perché come refined e anche come arma è assolutamente incredibile è vero che mi sarei aspettato magari un altro banner particolare però questo secondo me almeno per chi ha intenzione di pullare matt è un buon banner cioè matt con questo banner si conferma essere comunque un un personaggio veramente incredibile e quindi secondo me questo banner vale più per me che per yuffi e ve lo dico ve lo dico proprio di cuore ve lo dico sinceramente è un personaggio che vi riesce a fare tutte queste cose insieme poi l'animazione sembra anche velocissima l'animazione sembra anche velocissima cioè lui piazza questa questa siringa a terra e fa il buff quindi è veramente veloce anche l'animazione ed essere veloce l'animazione aiuta aiuta tanto perché ti consente di fare subito l'attacco e poi magari scegliere di curare o comunque scegliere di buffare e gestire la situazione quindi vedete l'animazione di matt sembra essere anche abbastanza veloce quindi boh non lo so ragazzi secondo me qui matt fa praticamente il banner qui letteralmente matt è il prezzo migliore del banner yuffi è vero che ha l'arcanum è vero che comunque fa danni di tipo terra potrebbe essere utile soprattutto per l'evento perché chi non ha armi terra come me è praticamente fregato però considerate anche il fatto che i nemici nel momento in cui effettueranno il loro attacco poi diventeranno debole agli attacchi fisici quindi potreste anche pensare di tankare il danno a vostro favore per poi contrattaccare e fare danni durante la loro fase di indebolimento quindi ovviamente sarete voi a scegliere la vostra strategia diciamo più affine o comunque la vostra strategia più più consona ecco mettiamola così però per me il banner è fondamentalmente matt detto questo non c'è altro da aggiungere spero che il video al solito possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye ciao